Ma ciao a tutti! Google Maps è ormai obbligatorio per viaggiare e molti si chiedono come cavolo fosse il mondo prima. Davvero io non saprei nemmeno dov'è il mio salotto senza. Comunque oltre alle indicazioni fornisce anche immagini su ciò che ci aspetta all'orizzonte dopo il nostro viaggio. E a volte, ecco, non è così bello, diciamo, guardare queste immagini, che forse vi faranno passare la voglia di andare in certe zone. Se siete seduti o sdraiati o quindi incredibilmente seduraiati, cominciamo! Ovviamente prima date una bella occhiata alla pagina Instagram ufficiale del canale. Nagoro, Giappone Nei primi anni del 2000, quando Ayano Tsukimi tornò a Nagoro, un paesino in Giappone, rimase molto rattristata, perché il posto dove era nata non era più lo stesso. Infatti ad oggi è una città quasi del tutto fantasma. Abitano 37 persone, tutte anziane, che ormai in pensione hanno deciso che questo posto era il migliore dove passare la vecchiaia. 37 abitanti non sono proprio una popolazione, e metà del paese era abbandonato. Questo perché dopo i tempi della guerra moltissimi decisero di andarsene per trovare lavoro in zone migliori e città più ricche. Se andate su Google Maps e zoomate come si deve, noterete che ci sono delle inquietanti bambole di pezza in quasi ogni parte delle zone abbandonate di Nagoro. Fanno veramente paura. Eppure dovrebbero essere un simbolo d'amore. Ayano le ha fatte tutte a mano per ripopolare in parte il posto, circa 350, tutte sedute o in piedi in posizioni strategiche. Ciò ha contribuito leggermente ad aumentare il numero di turisti, che entra ogni anno a Nagoro. E Ayano, ormai 65enne, si prende cura ogni giorno delle sue amate creazioni. Può essere quello che volete, ma a me farebbe davvero paura trovare certe cose su Google Maps o anche dal vivo. Alcune sembra pure che ti guardino. Coniglio gigante Di stranezze se ne possono vedere a mille su Google, specialmente con il Mountain View. Io personalmente alcune le ho trovate davvero paurose, ma la più misteriosa di tutte secondo me è questa. Fabrosa Sottana è un paesino piemontese con 1500 abitanti vicino a Cuneo, ed è famoso in tutta la rete grazie a Google Maps. Inserendo certe coordinate, corrispondenti a Via Artesina 14, ci si imbatte in un enorme coniglio rosa. Davvero molto inusuale. E' abbastanza spaventoso, perché sembra che qualcuno ci abbia fatto a botte e poi lasciato lì a marcire. Creato da un gruppo di artisti, i Gelatin, il coniglio rosa gigante è stato cucito a maglia. Ci sono voluti ben 5 anni per finirlo, e sembra dovrà rimanere lì in quella zona fino al 2025, poi non si sa. Uomo scomparso William Earl Mould, americano residente in Florida, precisamente a Wellington nella contea di Palm Beach, è scomparso ben 22 anni fa, dopo che aveva trascorso la nottata in un nightclub. Da allora non si sono più avuto notizie prima di agosto 2019. Un residente stava osservando la zona per capirne un po' la conformazione. All'improvviso notò un'auto o dentro un laghetto. Era proprio la vecchia sedan del 1994 di William. Chiamò subito la polizia che intervenne e confermò. Dentro il veicolo c'era l'uomo, o almeno il suo scheletro. Da quando era scomparso nessuno è mai più riuscito a ritrovarlo, nonostante fosse proprio sotto il loro naso. Nemmeno le persone che abitavano vicino a quel laghetto, ma sarebbe comunque stato impossibile salvarlo. Asino morto Questa non è una storia tanto inquietante, se la si racconta nel modo giusto. Moltissime sono le teorie create dietro essa e moltissime sono quelle false. Tempo fa, nel 2013, l'auto di Google è stata accusata di aver investito e ucciso un asino, nella regione Kueneng del Botswana. Perfino testate giornalistiche importanti come The Telegraph hanno fatto interi articoli, senza informarsi minimamente spaventando le persone in rete. Google si è mossa velocemente per spiegare la situazione. Quell'asino non era morto, stava semplicemente dormendo. A causa della visione a 360 gradi e per via del fatto che sono delle foto e non un video in movimento, nessuno aveva capito che l'asino era in procinto di alzarsi durante l'arrivo di Google. O che comunque prima si stava godendo un po' di riposo in mezzo al nulla come fanno molti asini in quella zona. Devo dire che è davvero incredibile come tutti si siano mossi per protestare su una situazione del genere. Uomini piccione Chi si vede per la prima volta queste immagini su Google Maps, anche solo per sbaglio, rimane leggermente scioccato senza conoscerne la storia, ed è ciò che è successo a me. Insomma, magari è mezzanotte e volete vedere l'itinerario di domani per capire che strada fare, e all'improvviso vi ritrovate sti cosi che vi osservano in modo davvero spaventoso. Non è il massimo, ma poi leggendo la storia viene quasi fuori un sorrisino, è un bel ma-va-faire. Il sito giapponese Daily Portal Z ha chiesto ai suoi utenti di vestirsi con maschere da piccione per l'arrivo di Google Maps nei pressi della stazione di Mikata nel 2013, e alcuni lo hanno fatto davvero, rimanendo a fissare la macchina oppure facendo finta di parlare normalmente in un bar o in un ristorante. Giusto per mettere più inquietudine. Capite, è solo un piccolo prank alla fine e non è nemmeno il primo, però. Gambe Google ha una brutta abitudine nel filmare le cose più strane e inquietanti, e a volte non si dorme la notte per certe cose. Per esempio quest'uomo a cui manca una gamba, ma lui felicemente si è messo in posa per la foto. Un po' come le persone nelle foto di Instagram che nella realtà sono tutt'altra storia. Ma il massimo lo ha raggiunto filmando questa donna, nelle vicinanze di alcune strutture Maya in Messico. A quanto pare per alcuni proviene da un mondo diverso dal nostro, una vera aliena con sembianze impossibili da descrivere. Ma a tutte queste cose ci sono spiegazioni. Non è la prima volta che escono persone deformate, perché quando renderizza le immagini Google perde pezzi qua e là, ed è normalissimo vedere abomini venuti da altri mondi. Grazie Google per i dolci sogni. Eeeh, pausa quiz. Vi ricordo assolutamente di passare prima per la pagina di gaming per nuove tope e magari qualche gameplay. Si sa mai che riesco a intrattenervi pure lì. E il quiz di oggi è questo. Come si chiama questa ragazza, considerata una bellezza unica in tutto il mondo? L'abbiamo vista in un video precedente se vi ricordate. Scriverò un commento sotto la quale potrete rispondere e andiamo avanti. 2207 Seymour Revenue Al civico 2207 di Seymour Revenue, Cleveland in Ohio, tra il 23 agosto 2002 e il 6 maggio 2013 era successa una cosa davvero agghiacciante. Tre giovani donne sono state rapite nel 2002 e poi sono riuscite a liberarsi nel 2013. Più di 10 anni di prigionia in una casa maledetta dimenticata da tutti e demolita. La storia macabra successa sembrava quasi un film, ma non sto qua a raccontarvela ora. Sappiate solo che il rapitore è stato arrestato, fortunatamente. Magari farò un video a parte. Comunque sia, se cercate la via con Google Maps vi apparirà soltanto un'immagine sfocata, perché nemmeno Google vuole mostrare un luogo così brutto ai suoi utenti. E fidatevi, è meglio così. Sono successe davvero troppe cose orribili dentro a quelle povere ragazze. La strana scena del crimine Su Google Maps possiamo davvero scoprire tante tante cose, comprese delle scene del crimine. Strano da dire, ma a volte sembra sia così. O forse no. Ad Amsterdam, nella città di Almere, è stata vista questa foto grazie alla mappa. Strana, vero? Sembra quasi una scena del crimine. Magari un uomo ha trascinato il corpo di un altro facendoli lasciare una vera scia di sangue. Ma non è proprio così. La proprietaria originale di quella scena ha spiegato cos'era. Era con suo manito e il cane su un ponte. Quest'ultimo si era tuffato prima in acqua per poi risalire per la passerella lasciando la scia di acqua, che dalla mappa sembra invece sangue. Quindi niente di così spaventoso per fortuna, semplicemente una famigliola felice. Fantasma Eh sì, al primo sguardo questa foto può davvero essere terrificante. In effetti pure io mi ero cagato addosso, ma non preoccupatevi. Semplicemente in questo caso abbiamo una bambina che stava giocando a nascondino mentre passava all'auto di Google, creando così un effetto alquanto spaventoso, ma niente di troppo serio. E anche oggi faccio un paio di incubi grazie al gentilissimo Google. Una storia unica Concludiamo la classifica con invece un uomo che somiglia moltissimo a Trevor di GTA, mezzo nudo che esce dalla macchina cercando di capire cosa stia succedendo. O forse sa cos'è successo ma non può dirlo. Insomma qui lascio creare a voi una storia, perché io sinceramente ho tantissime teorie in testa. Del perché si è in un bagagliaio e sul cane che magari non è morto ma sta semplicemente dormendo. Chi lo sa cos'è successo? L'unica cosa certa è che al primo sguardo può sembrare davvero molto ma molto inquietante questa foto. Si trova in Germania se siete interessati, ma non chiedetemi il posto preciso perché non lo so nemmeno io e non mi interessa. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh io a volte sì e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN, proprio come Cyber Ghost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese. Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di Cyber Ghost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Firestick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e che dire, Google Maps lascia davvero tante sorprese a volte, inquietanti anche da guardare. Mettete un bel mi piace per far girare il video e noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.